Abbiamo raggiunto un risultato importante con la realizzazione di una delle più grandi manifestazioni che si svolgono nella nostra città. Commenta così il sindaco della cittadina agropolisa Adamo Coppola il risultato della 48esima edizione del Carnevale di Agropoli. Il risultato credo di tanta passione e tanta volontà di persone che ci mettono il cuore. Oggi abbiamo avuto la testimonianza veramente che poi questi risultati si raccolgono se c'è un lavoro veramente serio dietro. È stato un vero piacere insomma collaborare con tutti loro. Poi devo dire un evento che si è svolto in tutta tranquillità, in serenità insomma e anche questo è un risultato importante perché poi sono feste che da volta che erano anche confusione invece si è svolto tutto tranquillamente. Ci siamo divertiti senza nessun problema, senza nessun pericolo. Insomma questo è da sottolineare quindi ringrazio naturalmente le forze dell'ordine per l'impegno che ci hanno messo e naturalmente tutti coloro che con grande passione hanno fatto questo lavoro. Abbiamo detto 4-5 mesi per i carristi di lavoro e devo dire che ormai i nostri messi cartapestai hanno raggiunto un livello eccezionale. Come ho detto prima dal palco insomma ormai sono carri che non sfigurano neanche nei carnevali più importanti e questo diciamoci inorgoglisce molto. E come ho detto anche prima caro Gianni, chissà se possiamo fare un ulteriore salto di qualità perché ormai credo siamo pronti anche a sfide ancora più importanti insomma. Rifletteremo su come fare ancora di più, su come fare meglio ma il premio più grande ce l'ha dato la gente con la grande enorme partecipazione. Insomma questo è il premio maggiore perché sia domenica che oggi migliaia di persone hanno invaso la nostra città, hanno riempito le nostre attività e questo diciamo è il premio più importante anche perché così cominciamo a dare delle risposte anche in termini di presenze al lavoro che noi facciamo tutti i giorni. Dopo il grande successo che ha visto la presenza di 20.000 persone per la due giorni dedicata al carnevale si sta valutando se riproporre la manifestazione anche nel periodo estivo. Ma questa è una cosa che discuteremo insieme naturalmente con l'associazione Il Carro. Potrebbe essere una cosa che funziona, è stato già provato, c'è stata tanta gente insomma, lo valuteremo insomma. Poi cercheremo anche di capire perché come annunciato entro Pasqua cercheremo di dare anche il programma estivo completo e quindi dovremo fare delle valutazioni su cosa investire. Però ne riparleremo poi con calma e vi rappresenteremo anche le idee che abbiamo per questa estate. Poi l'idea non deve essere solo del sindaco, come ho detto prima ci deve essere una presa di coscienza che siamo una squadra e quindi se l'idea piace non solo al sindaco ma piace ai commercianti, piace alle attività turistiche ricettive, piace alle associazioni insomma e quindi c'è questo meccanismo virtuoso, l'evento diciamo si farà.